E' un appello al voto difficile questa volta. Dovevamo arrivarci in condizioni diverse, certamente più coese. La necessità e l'urgenza di questa campagna elettorale è passata del tutto in secondo piano, insieme ai temi che sono spariti dal dibattito pubblico e politico. Con Progetto con cittadini abbiamo inteso rappresentare l'urgenza dei bisogni dei cittadini attraverso una mobilitazione dal basso. La nostra, infatti, è una candidatura urgente, che vuole mettere al centro la persona. I nostri temi sono già conosciuti perché li abbiamo elaborati insieme ai cittadini attraverso i Polislab. Le nostre sette idee capitali rappresentano sette priorità, definite, studiate, elaborate, attraverso un confronto diretto e dialettico con i cittadini. In questo mese scarso di campagna elettorale abbiamo cercato anche di rafforzare i punti già trattati insieme alla nostra comunità per elaborare una visione di città che possa tenere uniti tutti.